Salve a tutti i miei cari zecchini e ben ritrovati in questo nuovo video di StumbleGuys Allora innanzitutto voglio salutare Zeus e Elix che mi hanno chiesto di essere salutati nel video precedente quindi ciao Zeus e ciao Elix due zecchini che sono sempre presenti a nostri live, grandissimi mi discuso per la live di ieri sera che non sono nato in live ma ho avuto un contrattempo quindi la recuperiamo stasera guardiamo, si Minecraft, facciamo Minecraft stasera ecco la nostra Sercraft e poi ho visto ragazzi che più del 70% di voi guarda il video e non è iscritto al canale ragazzi iscrivetevi al canale, dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti intanto, puntiamo ai 10.000 e poi su su a salire poi se non siete iscritti e non attivate la campanellina ragazzi vi perdete di live, non potete giocare con noi è brutto poi chi non si iscrive al canale viene bocciato quest'anno, io ve lo dico comunque sia, partiamo innanzitutto a sigla dopo la sigla vediamo che ci sono dei premi gratis da ritirare noi ovviamente lì vogliamo ritirare se ci dà una bella skin non sarebbe male vorrei vincere qualche corona oggi sì, come al solito, l'altra sera è live all'ultima partita ho vinto io non succede mai ma quando succede? parte la musichetta, lo sapete che parte la musichetta mi manca poco per shoppare il pass voglio cambiare la mia skin perché questa non mi... cosa posso mettere? qui ho poche skin c'è un po' di banane l'argonauta qui metterò no, metto lo scheletrino rosso, dai, non l'ho mai messo usiamo uno scheletrino e facciamoci una bella partita questo cos'è? ultimo Stamber Stupestit ah no, no, l'ho giocato, non mi piace, non mi piace partita normale voglio le corone, io lo sapete io mi piacciono le corone sono a 18 credo, se non ho letto male se non ricordo male perché non l'ho letto adesso comunque ci vediamo in partita comunque Stumbleguys ha sempre un sacco di problemi la roulette ci mette un sacco a darti la gara vedo che molti vengono buttati fuori anche in live ho visto che molti di voi non riuscivano a entrare in partita perché vengono buttati fuori dal gioco non si capisce ancora il perché e questo mi dispiace perché è un gioco che va tanto qua su YouTube e non capisco perché i creatori non... non usino qualche mezzo per farlo rendere molto più veloce innanzitutto e in più, cioè, più fluido mamma mia c'è gente che è qui, che vuol giocare e non può giocare ma come mai? non capisco, non lo capirò mai siamo passati con qualche difficoltà perché parlo e quando parlo mi distrago è un casino ma ci vediamo alla prossima cioè nella partita di prima eravamo in 27 invece di 32 quindi 5 sono stati buttati fuori prima di partire e questo è veramente brutto questa mappa come sapete a me non è che piaccia molto però... guarda, guarda, guarda mi hanno spinto di fianco ma guarda, dove mi fa ripartire? dai però meno male che si sono fermati oh 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 dove cavolo? eh, l'ho toccata io ma perché mi fa ripartire da qui? meno male che si fermano e non vanno avanti e comunque mi sta laggando oh 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 no no, ne primi 8, 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 ti prego ma non ci credo ma non ci credo ne facciamo subito un'altra poi da sempre le solite mappe aggiungono mappe carine tipo quella del laser no, del laser quella che ci si poteva sparare quella era carina ma non l'hanno aggiunta a parte che anche quella andava migliorata guarda lì che facciata stai malata con la palla lì anche quella andrebbe migliorata però quella era carina da giocare soprattutto in live contro di voi era molto bella ma aveva un sacco di problemi anche quella non si poteva girare oh eh dai ero salito su vabbè stiamo dietro a questo tanto la prima la passiamo speriamo che la seconda sia qualcosa di buono siamo terzi ora buono anche quella di adesso siamo impartiti in 28 quindi altri 4 buttati fuori dal gioco così e qui ah oddio dicevo che cos'è le hot wheels lo sapete che non è che mi tornino tanto comode da fare però se era l'ultima sicuramente perdevo però in 8 arrivare nei primi 8 potrei farcela tranquillamente ecco oddio penso di aver fatto un errore adesso pulsantini oh oh ma vai ora vieni a guidare con i pulsantini questi qua dai su che ce la posso fare guarda che mi vengono contro i cani no ho preso prendo sempre quello sbagliato oddio qui l'ho preso giusto per un pelo dai i primi 8 ci sono dai oh oh matto friggati quinto dai quinto possiamo puntare la corona vediamo mamma mia ma perché block dash che non riuscirei mai non riuscirò mai a vincere il block dash ma mai al mondo proprio ci si prova come al solito non ci si arrende mai però block dash sarebbe una cosa più unica che rara va a vincerlo non ho mai imparato a fare questo quadro questo livello chiamate un po' come vi pare soprattutto quando arrivano gli spunchioni lo sapete vedo già gente che da cazzotti la non è ancora morto nessuno è un quadro che dura una marea ormai perché ormai la gente vuole fare solo block dash io è un quadro che odio un quadro che odio perché dura tanto la gente è molto brava arrivano gli spunchioni e pietro ci rimane secco oddio diciamo fortuna e levati gatto a rieccoli oddio uno è caduto non sono caduto per primo già questo è buono ma quando arrivano gli spunchioni quelli quegli altri io sono morto ecco adesso sono morto adesso sono morto adesso sono morto venderò cara la perlaccia aiuto 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 no 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 il laser no 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 dai ma il laser no però cavolo oddio riproviamo non mi darò mai per vinto no non è vero purtroppo mi dovrò dare per vinto se non questa la prossima ma io vorrei portare a casa una cavolo di corona non dico tante una le ha buttate due meno male meno male oddio lo scheletrino mi dà l'aria di uno che corre veramente lento oh però dai non è messo male sto scheletrino su su rimbalza vola corri 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 che succede ho forse troppo per un pelo quanto lo odia anche questo pezzo guarda veramente veramente oh ce l'ho fatta ce l'ho fatta dai guarda questo qui si mette a scivolare ora speriamo che non passi guarda poi dover stare a aspettare anche tutti gli altri che si qualificano è un'altra rottura perché se arrivi tre primi prima che arrivano gli altri soprattutto se sono botte è un casino questo è un altro quadro di quelli che potrei passare ora perché passano i primi otto ma se dovesse essere un quadro oddio da vincere non è detto che non lo riesca a vincere perché l'ultimo quadro che ho vinto l'altra volta fu questo in ecco che mi prende figurati se non mi prende me in live l'ultimo quadro che ho vinto è stato questo con una rimonta spettacolare proprio in questo punto qua ma guarda che mi ha buttato di sotto lui eh no eh no dai però è quello che fa le scivolate questo qua ma bene benissimo ma scivolate mi ha buttato a me davanti bene è andato fuori vero? bene mamma mia che sudata e questo è un quadro che potrei vincere se non devo sbagliare niente però no è passato no è un altro è un altro guarda si chiama Vapro è qualche cosa ecco l'ho sbagliato la prima non è ancora successo niente dai possiamo farcela non ti far prendere dalle palline non ti far prendere dalle palline eh mamma mia ma ce l'ho tutti davanti eh no 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 non ci si può fare no 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 non ci si può fare nemmeno stavolta guardateli 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 dentro il cannone ma perché eh va bene ragazzi dai io vi saluto con questa vittoria di live giugelo di quel che le ci vediamo in un prossimo video vediamo se c'è qualcosa da ritirare no non mi pare qualcosa che sta arrivando prossimamente ci sarà un altro arena nerf tra due ore eh eh non so quanto durerà magari questo weekend potremmo fare qualche live pomeridiana con questo tipo sabato venerdì non lo so fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete una live di questo in questo in questo weekend mi raccomando tanti mi piace sotto a questo video condividete con i nostri amici e noi ci vediamo nel prossimo video ciao zechini